Noccio buona maniata, fate per voi, cari mucciaci, oggi per di tutto, per iniziare, voglio darvi buona vigilia di Natale, mi raccomando, non vi strafogate, però passate da buona serata, e torniamo a noi, il blocco di oggi è il terzo episodio di stronzate remix, ogni giorno giro la testa a cazzo, perché se non giro nel vuoto non sono io, ragazzi, nel terzo episodio di stronzate remix mi sono sempre chiesto, perché si dice cannabis, perché dopo che ti fumi uno devi fare il bis, oppure fare il 3x2 col push o con lo spacciatore, poi un'altra cosa che mi sono chiesto, se negli anni 90 le esco erano delle macchine, come ci siamo ritorni negli anni 2000, essere delle prostitute di lusso, nemmeno Ander Cartman a mistero riuscirebbe a capire il suo mistero, e vabbè ragazzi, ho detto potreste usare un po', allora come viene, viene, il solito stile, il solito stile trucco 17, ci vediamo mucciaci!